Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video! Allora, mi son detta, visto che comunque si sta avvicinando il 31 di ottobre, è una festa molto spettrale, lo so, e praticamente mi son detta che ci sono ragazze e ragazze, quindi in questo video vi farò vedere 6 tipi di ragazze a quella festa. Buona visione! Pronto? Ciao, come stai? No, t'ho chiamato giusto così per sapere se avevi qualche impegno il 31 ottobre, perché... No, perché qua stiamo organizzando una festa! Una festa? Intendi la festa del 31 ottobre? No, guarda! No! Ma lo sai che a me non piace? Dicono che è la festa del diavolo! Per carità, io vado a messa tutte le domeniche, poi così non posso più andare a messa, non posso più farmi vedere in chiesa! Cerca di capire! Dai, sarà per un'altra volta! Ah, vabbè, d'accordo, ho capito, quindi ti saluto. E adesso che invito alla mia festa? Ciao, come stai? No, volevo sapere se avevi qualche impegno per il 31 ottobre! Sai, do una festa! Festa? Una festa? Intendi una festa in maschera in cui ci saranno tanti mostri? Io non lo so... A me quelli fanno paura! Mi fanno tanta paura! Ciao! Chi si risente dopo tanto tempo? Come stai? Senti, io il 31 ottobre do una festa! Che ne pensi se vieni pure tu? No, guarda, mi dispiace il fatto che io quella sera ho altri impegni! Dovrete rinunciare a me! Ciao! Allora, io ti volevo dire che questo fine settimana do una festa a casa mia, proprio il 31 ottobre, mi chiedevo se puoi venire! Ma stai scherzando, lo sai che a me piacciono le cose avventurose, le avventure, anzi, anzi, secondo me dovremo organizzare con una bella caccia al tesoro! Per tutti gli invitati, ci pensi che è bello, però deve essere una caccia al tesoro al buio! Così è più divertente, che te ne pare? A fare fatto, allora!